Una nuova piattaforma web in grado di snellire il settore delle attività produttive che consentirà a cittadini e imprese di inoltrare istanze in modo diretto e immediato. Il suo nome è autorizzo.com. Sarà possibile partecipare a fiere e mercati, ma ad essere coinvolte sono anche richieste di occupazione di solo pubblico e licenze. Al termine degli istruttori e dei pagamenti dei tributi dovuti, l'utente riceverà direttamente su PC, smartphone o tablet il titolo rilasciato e senza passare dagli uffici comunali. La vera novità sono gli operatori mercatali. Sarà la possibilità attraverso un'applicazione che stiamo presentando di avere visione delle presenze e dei pagamenti tutto in digitale. Quindi una vera e propria evoluzione della digitalizzazione nella città di Bari. Consentirà imprese e cittadini di fare istanze in tempo reale, controllare l'iter dell'istanza e soprattutto a seguito dell'eventuale pagamento del tributo o del canone ricevere sul suo device direttamente l'autorizzazione. Quindi si risparmia tempo per le imprese e i cittadini e risparmiare tempo vuol dire risparmiare anche denaro per le nostre imprese. La piattaforma consentirà inoltre di somministrare rilevazioni di customer satisfaction immediate sulla qualità dell'offerta in modo da poter correggere e migliorare gli standard dei servizi erogati. Grazie